Si sa quel che si lascia, non si sa quel che si trova. E' questo ciò che i commercianti dell'area food attualmente situati tra Via Lamarca e San Decenzo si ritrovano ad affrontare oggi. Pareri contrastanti che però viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda. Il timore di lasciare il posto a loro riservato oramai da tanti anni per trasferirsi ancora non si sa bene dove, ma quello che è certo è che sarà insieme alle mercato dell'abbigliamento. Questo dovuto al fatto che tante bancarelle di vestiario, negli ultimi anni, hanno lasciato il proprio posteggio creando dei veri e propri vuoti tra una e l'altra. L'idea delle comuni è quindi quella di compattare le due fasce di mercato per restituire un decore estetico ad uno dei mercati più grandi del nostro territorio. Non tutti ne sono rimasti però entusiasti e se qualcuno ha dato via anche ad una raccolta firme per non farsi sfrattare, qualcun altro sembra invece accettare la sfida. Sono del parere favorevole, bene o male la clientela mi ritrova, la lunga di 15 giorni, un mese, due mesi il massimo, poi ci ritrovano. Allora di là dove c'è l'abbigliamento è meglio, così siamo tutti insieme. Io spero che se andiamo di là magari lavoreremo pure di più, però la mia paura è che so che io oggi qui lavoro, di là non saprei. Spero perché noi vendiamo poi il mangiare. Se metti il caso ci va qualche mercato male, iniziamo col mangiare che non andiamo a buon fine. Qui so che ormai sono tanti anni, so che devo portare tanto articolo e tanto articolo vendo. Io vengo qui al mercato di Pesaro da quanto avevo 13 anni, ne ho 40, quindi è un bel pezzettino che vengo al mercato. La nostra posizione è che, come già abbiamo spiegato all'amministrazione, addirittura abbiamo fatto una raccolta firme, noi non vogliamo assolutamente un ulteriore spostamento perché ogni spostamento che noi facciamo per noi è una grande perdita, è una perdita in termini di clientela perché purtroppo un minimo spostamento già crea un danno al cliente che non ti ritrova più. Le motivazioni che ci hanno dato la pubblica amministrazione dello spostamento sono motivazioni che non hanno un fondamento, lo fanno per un parcheggio perché devono liberare un parcheggio ma vanno a spostarci e occupare un altro parcheggio in un altro mercato. C'è da tener conto che noi qui siamo dal lato della città, di là saremmo lato cimitero e da che mondo è mondo dal cimitero non vengono fuori per venire a comprare, quindi la gente viene dalla città. Noi ci troviamo a servire persone che vengono a piedi, persone avanti negli anni, sono disposte poi quelle persone a venire fino di là, fare con le borse o col sottopasso un bel tragitto con il peso nelle mani? Difficilmente. Ho raccolto ormai diverse settimane fa a distanza di alcuni esercenti qui del mercato del food che dal giorno all'altro si sono trovati comunicato il desiderio da parte del comune di spostare in blocco il mercato del food nella zona che oggi ospita in parte il mercato non alimentare, quindi dove c'è l'abbigliamento e dove ci sono altri prodotti. Con alcuni colleghi di Centrodestra abbiamo scritto un'interpellanza per capire di più perché come consiglieri comunali, come commissione adibita non siamo stati minimamente coinvolti nella decisione di questo spostamento e soprattutto non sappiamo qual è il progetto. Per poter fare una valutazione chiara e capire se ci sono benefici, se ci sono difficoltà, oltre ad ascoltare ovviamente gli esercenti dobbiamo capire anche qual è l'idea del comune. Non siamo contrari allo spostamento così come non siamo favorevoli perché spostare una realtà qui che funziona per andare al buio a scoprire quello che succederà soltanto dopo non va bene, ma allo stesso tempo siamo disponibili dal confronto. Se il progetto, se la visione nuova che l'amministrazione comunale ha in mente per questo mercato ci convince, volentieri daremo sostegno e supporto anche nel pensare un nuovo mercato, tutto nella zona del San Decenzio.